I funerali di Wen Jian Liu sono stati una nuova occasione per i poliziotti per mostrare la rabbia nei confronti del sindaco di New York, Bill de Blasio. La richiesta da parte del capo della polizia, William Bratton, di non voltare le spalle al primo cittadino è rimasta, almeno in parte, inascoltata. Al momento del suo intervento durante la cerimonia funebre, molti agenti hanno riproposto il gesto di protesta, nonostante il messaggio di riconciliazione da parte di de Blasio. Torniamo a dedicarci alla grande tradizione di New York, di comprensione reciproca e di vita in armonia. La freddezza riproposta durante i funerali del secondo degli agenti uccisi da Ismail Brinsley per vendicare persone di colore morte per mano di poliziotti non è cambiata neanche dopo l'incontro chiarificatore degli scorsi giorni. Il sindaco lo aveva definito costruttivo, il sindacato lo aveva lasciato limitandosi a dire che era stato un nulla di fatto.